Non esiste cammino più arduo di quello che risale l'abisso della nostra caduta. La sua meta è il paradiso, il grembo dell'umanità, l'Aden che si estende oltre i confini del nostro mondo di morte. I figli torneranno a percorrere strade dimenticate e si riuniranno con un solo popolo nel luogo in cui tutto ebbe principio, la terra degli dei.